Ma ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, oggi con questo video andiamo ad accarezzare il tema del video su 1000 iscritti quello che mi porterà a Berlino per un'avventura dove non solo parlerò ovviamente della città ma sarà un modo per appunto parlare più di me sarà un video particolare che con la montagna non c'entrerà nulla ma sarà un modo per presentarmi meglio io per farvi capire quali sono le cose che più mi piacciono per creare quell'empatia che serve appunto ad un canale per dare identità però sempre andando a Berlino cercherò di darvi informazioni utili che non siano solo futili su di me ma vi porterò anche contenuti che potrete andare appunto fare i vostri in modo che possono sempre essere un consiglio volto ovviamente all'attrezzatura perché da questo canale evince che quello che vi piace di più in ogni caso sono sempre le recensioni e anche oggi sarà una recensione come avete visto dal titolo. Oggi vi porterò uno zaino ibrido che può essere perfetto sia per fare un'escursione ma anche per andare a fare un'escursione in città perché come sapete Decathlon divide proprio la famiglia sempre di Forklats ma sotto una diciamo una divisione che si chiama travel oppure MT quindi mountain hiking, natural hiking diciamo che la Forklats tratta mountain hiking e travel quindi noi andremo ad inglobare portando anche dei contenuti noi cioè io, io e Mara portando anche dei contenuti di zaini per non fare o attrezzatura per non fare acquisti doppi quindi magari andare a comprare due zaini differenti per andare magari a fare un'uscita, un'escursione oppure poi per andare in città e oggi andiamo a centrare l'obiettivo con questo zaino, vi leggo il titolo, NH Escape 500 da 16 litri uno zaino relativamente compatto che può essere utilizzato anche come bagaglia a mano in aereo e soprattutto può essere appunto un doppio utilizzo quindi essere utilizzato nelle vostre escursioni e poi andare appunto a farsi un bel weekend in giro portandosi dietro come baglia a mano questo zaino non è la colorazione che utilizzerò io, io lo utilizzerò tutto nero però ho scelto questa colorazione perché si vedono meglio i dettagli del colore nero in modo da farvi vedere tutte le varie tasche a dovere e tutto quanto perché vi spoilerò che ci sono 12 tasche in questi 16 litri litraggio fidatevi ragazzi che per quanto riguarda un'escursione qui si parla di escursioni semplici quindi non di andare a fare una ciaspolata o cose che comunque è semplice ma di andare sempre a camminare sui sentieri di bassa quota dove magari non troviamo neve in modo da portarci dietro in un hiking, in un'uscita giornaliera quello che ci serve appunto per affrontare la giornata al meglio vi parlo subito di dimensioni perché comunque è importante abbiamo uno zaino che di dimensioni è 40 28 20 quindi quasi perfetto per tutte le compagnie di volo per esempio vi faccio un esempio Ryanair che ovviamente compagnia lo costa bagaglia a mano più piccolo Ryanair vuole uno zaino che sia 40 25 20 questo zaino invece è 40 per 28 20 però tranquilli che questo zaino è perfetto anche per volare con Ryanair questo zaino nello scomparto di Ryanair nel box entra perfettamente perché il box vuole che quelli rigidi siano di queste misure e questo si adatta perfettamente anche in larghezza, in tutto fidatevi che ci entrerà tranquillamente e non avrete nessun problema a volare con nessuna compagnia con questo zaino, con questo bagaglio a mano andiamo avanti, vi parlo di comfort il peso è 700 grammi peso 700 grammi dello zaino parliamo del comfort per il comfort troviamo 5 pad sulla schiena eccoli qua, ne troviamo, sono segmentati sono 1, 2, 3, 4 e poi questo più in basso che è sulla fascia lombare sono pad molto comodi dentro c'è una schiuma molto morbida che si va ad adattare bene alla schiena e soprattutto per favorire la reazione dello zaino tutti i pad compresi gli spallacci sono traforati come potete vedere in questo modo l'area può circolare all'interno del pad in modo da non farvi sudare ottimo, è una soluzione semplice ma che comunque fa davvero la differenza andiamo avanti mi sono segnato tutto ovviamente ragazzi perché questo zaino ha tantissime cose e voglio portarvi sempre delle recensioni che possono essere il più profonde possibili per andare per farvi dire ok lo prendo, non lo prendo non fa il caso mio, fa il caso mio andiamo avanti e parliamo di tasche ci sono veramente un botto di tasche parliamo degli scomparti che in primis sono due quindi troviamo lo scomparto frontale eccolo qua, quello classico dove ci sono diverse tasche che poi andremo a vedere poi troviamo lo scomparto grande questo è uno scomparto grande lo zaino, chiamatelo valigia come volete si apre praticamente in questo modo come proprio una valigia e va a formare un pozzetto in questo modo qui dove voi potete andare a riporre le vostre cose ora essendo nuovo sta un pochino piegato ma fidatevi poi quando andremo avanti con il prossimo video che vi farò vedere come lo preparo andrete a vedere quanta roba ci andremo a mettere fidatevi rimarrete stupiti da questo zaino fidatevi del vostro Tom partiamo con la tasca più piccola per appunto semplicità per andare poi nella tasca grande all'interno tasca frontale cosa troviamo troviamo una delle zip una delle tasche zippate che sono quattro in totale nello zaino e poi troviamo questo praticamente piccolo scomparto dove ci si possono mettere qua per esempio delle penne in questo punto qua ci sono due praticamente porta penne o due porta spazzolini probabilmente io ci metterò lo spazzolino qua sono due non so se riuscite a vedere questi due piccoli scomparti e poi una tasca un po' più grande dove c'entra la mano dove andare a riporre altri oggetti magari questo potrei davvero allestirlo o come magari metterci piccola oggettistica tipo appunto spazzolino cose varie e poi abbiamo una tasca zippata che è questa qua con il porta chiavi eccolo qua qui potete andare a agganciare le vostre chiavi poi andare a riporlo e poi andare a mettere quello che volete comunque la tasca zippata è davvero molto profonda eccola qua c'entra tutta la mano quindi ottimo poi una volta richiuso potete andare a mettere altri piccoli oggetti all'interno di questa tasca ecco qua ragazzi lo andiamo a richiudere chiudiamolo subito tac 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 abbiamo sul frontale un'altra tasca che ha questa piccola linguetta di sicurezza eccola qua qua ragazzi non andate a riporre oggetti di valore perché questa tasca è l'unica davvero soggetta a potenziali furti anche se ha questa il tessuto è piegato apposta per andare a nascondere la tasca fidatevi che questa è la più pericolosa di tutte c'è comunque un'ottima tasca bella profonda qua eccola qua semplice da raggiungere mettete oggetti semplici non metteteci occhiali o cose varie perché questa è la tasca veramente più soggetta in caso a furti per i malintenzionati quindi mi raccomando andiamo adesso nella parte principale dello zaino andiamo ad aprirlo completamente per andare a capire che cosa troviamo all'interno dello zaino troviamo innanzitutto questo qua è un QR code che potete scansionare per andare a vedere tutte le specifiche dello zaino eccolo qua molto molto comodo poi abbiamo la tasca sotto da 13 pollici per un computer da 13 pollici eccolo qua c'è una tasca ovviamente ragazzi 13 pollici per le dimensioni se prendete il 23 pollici c'è anche da 24 pollici 25 pollici quello ci sarà il computer da 16 pollici qua no ovviamente e poi sotto ci sta volendo anche un tablet da 10 pollici cos'è figo figo è che ragazzi tutte e due tutte e due le tasche anzi no scusate solo quella per l'iPad ha tipo una sorta di velcro quindi molto morbido che quindi ovviamente avendo lo schermo a contatto con lo zaino permette che non si righi quindi perfetto ottimo non so cosa ci metterò poi dopo quando andremo ad allestire lo zaino non in questo video in un prossimo video quando ci avvicineremo alla partenza per ricapitolare andrò 4 giorni a Berlino vedrete che cosa metto magari in questa tasca che ancora ci devo ragionare poi troviamo nella parte opposta invece un'altra tasca sempre a zip una tasca zippata molto profonda questa vedremo anche qui che cosa ci vado a mettere cosa andrò a metterci però la tasca comunque rimane molto molto profonda poi che cosa troviamo sempre all'interno della tasca grande una cosa figa che per un escursionista è importante ma anche per chi fa viaggi troviamo questa tasca ragazzi non so se riesco a farvela vedere qua dove ci sta una power bank eccola qua ragazzi in questa tasca potete mettere la vostra power bank eccola qua far passare portare su il filo e farlo passare da qui che c'è un buchino in questo modo potrete poi andare a mettere il vostro eccolo qua qua ci passa il buchino il vostro telefono in carica che potrete tenere su questa tasca qua che sta sullo spallaccio che ci entra uno smartphone fino a 6,8 pollici quindi tutta questa ideologia della power bank che dentro lo zaino esce il filo e tac potrete andare a mettere appunto qua il vostro telefono poi abbiamo sopra una tasca zippata per andare a riporre tendenzialmente la vostra lampada frontale eccola qua ragazzi è proprio sulla qua ci sono gli spallacci qui c'è il gancetto classico dello zaino e sopra la tasca sempre zippata per andare a mettere la vostra lampada frontale perché volendo potete utilizzarlo anche per escursioni in notturna tranquillamente come zaino è perfetto e poi vi parlo come ultima cosa di questa qua che è l'aggancio il collegamento alla valigia quindi qua ci potete mettere appunto la maniglia della valigia per andare a tenere lo zaino fisso alla valigia quindi ottimo questo zaino ragazzi fidatevi che è veramente ottimo sia per escursioni in giornata che appunto per farci per utilizzarlo come bagaglia a mano io questo zaino poi una volta portato in in albergo cosa farò lo svuoterò tutto e lo utilizzerò per appunto nelle uscite durante le giornate dove ci porterò tutto quello che mi servirà durante le mie le mie escursioni in città che poi vi farò vedere anche cosa mi porto nelle escursioni in città vi voglio dire un altro paio di cose mi leggo un attimo qui per la sicurezza c'è una sicura per la zip eccola qua quindi questa sicura non è una sicura contro i malintenzionati ve lo dico subito eccola qua questo piccolo gancetto che trovate qua giù è un gancetto di gomma molto dura che una volta passato sotto tutte e due le zip semplicemente è una sicura che non fa aprire lo zaino ecco in questo modo non si apre quindi bisogna far ripassare dentro ve lo faccio vedere meglio vedete questa è la zipettina bisogna adesso sono tutte e due sotto per ripassarla di sopra bisogna far passare dentro proprio a questo gancettino la zip in questo modo e per poi ritirare sopra la cerniera ed andarlo ad aprire adesso si può aprire però che cosa potete fare voi potete ovviamente tranquillamente mettere il doppio lucchetto c'è la doppia cerniera quindi mettendo un lucchettino così anche piccolino lo tenete chiuso infatti io probabilmente terrò una zipettina sopra una zipettina sotto oppure tutto e due sotto e ci metterò la 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 moschettoncino no moschettoncino scusate un lucchettino che prenderò sempre in negozio in questo modo non non si può aprire vedete e metterò anche un lucchettino anche di qua anche la tasca frontale l'unica eccola qua l'unica tasca che rimarrà scoperta è quella come vi ho detto questa qui questa è l'unica che rimarrà davvero purtroppo scoperta e mi dispiace un po' potevano farci anche qui ormai una doppia cernierina in modo da poter mettere il lucchetto anche qui vediamo se vi ho detto tutto parliamo di materiali prima di andare a concludere il video anzi prima dei materiali vi parlo che questo zaino ha anche due tasche laterali che possono fungere da porta borracce eccola qua questo è un porta borracce poi vi farò vedere ovviamente una volta a berlino come utilizzarlo ci stanno due borracce da 0,6 sia da una parte che dall'altra ecco qua è una tasca molto profonda molto elastica probabilmente purtroppo non mi porterò la mia borraccia la acquisterò là oppure prenderò delle bottigliette mi dispiace però quello potrebbe andare a creare il rischio che non ci stia ovviamente in valigia anche se poi sapete che non si possono portare i liquidi bla 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 quindi la borraccia però essendo rigida potrebbe crearmi problemi di spazio comunque abbiamo sia a destra che a sinistra due porta borracce ovviamente fondamentali per le escursioni e poi abbiamo un'ulteriore tasca finale che è questa qui che comunque è molto profonda dove poter andare a rimettere altre cose che va praticamente su tutta la lunghezza del bordo dello zaino vi parlo di materiali ovviamente lo zaino è 100% poliestere polipropilene e poliuretano una cosa ottima che mi piace sul fondale dello zaino è che troviamo questa parte molto molto più rigida quindi questo qua che cosa serve praticamente serve innanzitutto questa parte qui è impermeabile quindi se l'appoggiamo in terra in terra e bagnato il nostro zaino si salva e poi soprattutto è molto resistente quindi consente di poterlo appoggiare in ogni posto in ogni punto lo zaino non si andrà a rovinare ovviamente tutto lo zaino è molto resistente e quindi è perfetto per andare appunto a portarlo anche in escursione veramente veramente ottimo parlo per finire di difetti un difetto di questo zaino è che purtroppo non è impermeabile ovviamente non viene fornito con la propria con la tasca con la sacca per andare ad impermeabilizzarlo quindi che cosa che cosa potete fare potete acquistare separatamente come farò io anzi io ce l'ho quindi lo utilizzerò la custodia per andare a rendere impermeabile lo zaino in questo modo appunto non avrete problemi di che qualcosa vi si possa bagnare all'interno abbiamo non ve l'ho detto scusate anche l'attacco al petto eccolo qua che può scorrere in questo modo sulla lunghezza dello spallaccio si muove per circa 25 centimetri per andare a regolarlo al meglio bene ragazzi anche questo video termina qui ovviamente questo zaino è eco ideato quindi tinta un filamento su due e il filo tinto non viene tinto dopo ma già mentre viene messo nella massa viene colorato in modo da consumare meno acqua quindi anche se decathlon in questo è andata un po' a rilento nell'eco di azione fidatevi che si sta veramente muovendo bene per andare a creare i propri prodotti in modo ecologico e se andate in un negozio decathlon e vi guardate intorno inizierete anche voi a capire con i vari cartelli espositivi quanto decathlon stia muovendo la macchina per cercare di tenere il passo e poi fidatevi diventare un fiore all'occhiello anche di prodotti eco ideati prezzo dello zaino sempre vi saluto dopo prezzo dello zaino 25 euro quindi comunque un prezzo comunque contenuto per andare ad avere uno zaino che possa essere perfetto sia per le escursioni in montagna ma anche per le escursioni in città bene vi ho detto tutto grazie per aver seguito il video ci vediamo al prossimo un saluto dal vostro Tom Search ciao ah ragazzi ovviamente questo è il primo video di questa saga su questo zaino che poi andremo ad allestirlo di come allestirlo di come l'allestirò di come utilizzarlo magari in escursione quindi ecco appunto qualunque domanda avete sotto nei commenti al prossimo video ciao